Bentornati, bentornati sul canale. Sono giorni in cui, devo dire, Marotta sta parlando con una frequenza ragguardevole e anche oggi ci sono delle dichiarazioni in tal senso del dirigente, del presidente, del presidente, dell'azzurro che ha discusso di vari argomenti di una lunga chiacchierata con Radio Anch'io, lo sport, Radio Rai, in particolare dei diktat, della linea tracciata dalla nuova proprietà, un segmento di dichiarazioni che voglio porre alla vostra attenzione, riguarda proprio questa parte qua. Retto Marotta, oggi ci sono dieci proprietà straniere in Serie A, non c'è più il mecenatismo e meno male arrivano capitali stranieri perché altrimenti perderemmo competitività. Chiaro che investitori come Octri manifestano la volontà di mantenere continuità e stabilità di gestione con grande trasparenza, ma anche rigidità economico-finanziaria. E a questa parola, rigidità economico-finanziaria, già immagino tutti i tifosi dell'Inter impazzire. Svendita, compriamo, a dieta. Calca, state calca. Peraltro Marotta aggiunge, mi sembra giusto, no alle spese folli, sia alla valorizzazione dei giovani. Questo deve essere il nostro motto. Spese folli che, giustamente, possono anche essere considerate quelle riguardanti il discorso delle commissioni agli agenti. E Marotta dice assolutamente sì. Nella scorsa stagione abbiamo speso un miliardo di commissioni, chiaramente abbiamo speso non noi dell'Inter, abbiamo speso noi come sistemi. Sono soldi che finiscono fuori dal sistema, appunto, dice Marotta. Capisco rispetto alla professione, ma spesso si assiste a situazioni non eccessivamente chiare e vanno quindi regolamentate, per quanto questi professionisti facciano ormai parte del movimento. Devo dire, sono parole anche piuttosto corrette da parte di Marotta, tutto questo aspetto. Poi alcuni spunti un po' sparsi. Su Frattesi dice un altro elemento molto valido, soprattutto perché è molto moderno. Fa della forza agonistica il fiore all'occhiello, ma si adatta anche tatticamente laddove viene chiesto da Inzaghi e da Spalletti. Sulla Saudi Pro League dice lo sport rappresenta un rilevante patrimonio dell'Italia insieme al turismo e va tutelato. Non siamo più l'eldorato del calcio, oggi siamo un campionato di transizione e chi arriva spesso viene attratto dagli ingaggi notevoli all'estero e è difficile trattenerlo. La nostra capacità è sostituirli degnamente senza pagare i costi sconsiderati. E questo è un discorso che abbiamo già affrontato. Poi su Conte al Napoli ha ospito che il nostro campionato sia sempre più attrattivo e lo è se ci sono più squadre che competono per lo scudetto. È chiaro che la speranza è quella di vederci nuovamente ai campioni d'Italia, ma sono contento che il campionato diventi più competitivo. Anche quello che sta accadendo alle coppie europee è frutto della competenza e professionalità che il nostro calcio riesce a esprimere. Infine, sul Lautaro conferma ormai virtualmente già fatto. Sullo Stato il problema di San Italia è notevole e sentito. abbiamo grandi difficoltà per una lentezza burocratica. L'auspicio è che si trovi una collocazione definitiva. È un problema e un'esigenza. Abbiamo individuato la zona di Rozzano e abbiamo esteso il diritto di esclusivo e c'è poi la proposta del Comune di Milano sulla riqualificazione di San Silo. Adesso è un po' prematuro. E poi dice l'obiettivo per l'Inter la prossima stagione. Noi non ci poniamo limiti. Siamo l'Inter, un club storico che ha vinto tanti trofei in tutte le competizioni. Il viatico da perseguire e essere competitivi sempre. La seconda stella è qualcosa di straordinario. Abbiamo visto quanta massa di tifosi festeggiare la squadra. Ancora una volta dimostra che l'Inter e il calcio sono fenomeni di grande aggregazione sociale. Dicevo sul discorso principale, quello di OCTRI. Allora ragazzi, non c'è tanto da avere timori come ha già spiegato, ma come si è già dimostrato ampiamente in questa prima fetta di gestione del fondo americano. La linea che sarà tenuta è quella che è stata tenuta fino a quando c'è stato anche Steven Jung al comando, c'è stato su Ning, cioè l'autosostentamento del club. Il sapersi sostenere autonomamente senza dover far riferimento agli innesti di denaro, agli aumenti di capitale della proprietà. Non è un qualcosa di positivo. Quando io leggevo Exor aumento di capitale di 200 milioni di piani, di parte. Allora un conto è dire che ti servono 5 milioni per chiudere una trattativa oppure ti serve l'ok per chiudere magari prima la trattativa in entrata e poi attivarti a livello di gestioni. È un discorso. Lo snellimento della catena di comunicazione e le esigenze di cassa, quelle possibili. Ok, quello è un discorso. Ma il discorso a lungo raggio di una gestione che deve fare riferimento sempre all'azionista di maggioranza per ripianare, per integrare, cioè non è sintomo di una buona gestione. L'aspetto positivo è che ormai l'Inter, i dirigenti dell'Inter in particolare, si sono abituati, hanno fatto una palestra di anni sotto questo aspetto, quindi non trovano difficoltà. Il percorso è avviato, l'Inter non ha bisogno di grossi ritocchi ed eccoci arrivati proprio alla questione della serenità. che attraversa oggi l'Inter, rinsaldata da una nuova proprietà che magari non anterrà l'Inter per 15 anni ma finché ce l'avrà sicuramente non avrà interessi a svalutarne il valore sportivo e questo vuol dire calciatori, brand e tutto il resto. Anzi, abbiamo visto l'implementazione a livello di contratti commerciali. Il discorso che faceva Marotta sulla valorizzazione dei giovani è calza pennello sotto questo aspetto, perché? Perché si parla tanto per esempio di Valentin Carboni, abbiamo parlato tanto anche sul canale e ognuno di noi ha una sua opinione, ma non c'è solo Carboni. Ad esempio, il nome di oggi è quello più esposito, che sembra piacere molto al Genoa, piace anche al Cagliari, potrebbe rientrare nell'affare Martinez, ma l'Inter non ne vuole perdere il controllo. È un po' come ha detto Ausilio a proposito di Carboni qualche settimana fa. Noi non vorremmo perdere il controllo di Carboni, anzi lui non ha proprio parlato di cessioni, Ausilio, ha parlato di nuovo prestito oppure di farlo restare proprio nel gruppo della prima squadra di Inzaghi. Comincerà il ritiro con Inzaghi e verrà valutato. Quindi credo che sia una linea corretta. Parliamo di uno che è stato convocato nella prima squadra dell'Argentina, prossima protagonista, è la Coppa America, quindi non parliamo proprio dell'ultimo ritardo, ma anche su Esposito, il terzo dei fratelli Esposito, l'altro Sebastiano per esempio è appetito dall'Empoli, altro bacino dal quale attingere magari anche a livello di palestra, Esposito già fatto molto bene con la Samp, magari può confermarsi in Serie A, non perdere il controllo, avere un diritto di recompra, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una politica che io condivido e l'Inter oggi può farla perché non ha più necessità di plusvalenzare, utilizziamo un termine orrendo, orribile, orripilante, è chiaro che poi c'è le offerte, quelle mostre, ma quelle vale per tutti, vale per l'Inter, però l'Inter non ha più questo bisogno urgente e vitale di fare delle plusvalenze entro la fine di giugno, entro di qua, entro di là e quindi può anche iniziare a pianificare un piano di crescita subordinato magari a dei prestiti per questi giovani, oppure chissà integrarne qualcuno in prima squadra e farlo crescere. Le parole di Marotta da questo punto di vista mi rassicurano che non deve essere demonizzato il discorso che fa invece, d'altro canto, come dicevo, su Octri che vuole conti sani e una rigidità economico-finanziaria. Non significa altro che continuare su questo percorso che ha portato l'Inter a vincere trofei in patria, Scudetti 2 negli ultimi 4 anni e arrivare anche a finali europei perse, ma sono sempre finali europei. Un saluto!